Questo campo largo, campo stretto, campo lungo, sono al momento soltanto accorgimenti tattici. C'è da augurarsi che si formino due coalizioni dotate di una propria strategia, eccetera. Ma al momento non è così, né da una parte né dall'altra. Con la differenza che la coalizione di destra è una coalizione sperimentata da 35 anni, 30 anni. E a sinistra, se togli i periodi molto faticosi dell'ulivo, sono 15 anni che non c'è più coalizione. All'indomani della sconfitta in Abruzzo, del campo larghissimo, l'analisi di Massimo Cacciari sulla situazione politica del centro-sinistra lascia poco spazio all'ipotesi di una coalizione solida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, oltre alla coscienza tattica, che se si vuole essere della partita bisogna stare insieme, continua il filosofo, c'è poco altro. Se avessero vinto in Abruzzo, probabilmente questa sarebbe stata una spinta notevole a cercare davvero di dar vita a qualcosa che assomiglia a una coalizione. Con la botta che hanno preso e soprattutto con l'arretramento dei Cinque Stelle, capisce, è anche una coalizione molto debole. Però, d'altra parte, sono deboli anche dall'altra parte, perché hanno questa frana di Salvini, che non è che possano recuperare né Meloni né Forza Italia. Quindi ci sono due coalizioni molto deboli, questo cosa significa che il quadro politico italiano continua a diventare sempre più fragile, sempre più debole, sempre più in situazione critica. E non è una buona notizia. E sulla crisi interna della Lega, per quanto riguarda il Veneto e le regionali del 2025, tutto dipenderà, secondo Cacciari, dalla decisione sul terzo mandato. Se non hanno Zaia, chi mettono la Lega e dall'altra parte accettano che sia uno candidato della Lega, cioè di Zaia poi, perché è chiaro, non sarà mai Salvini a dettare legge a Zaia qui, no? Quindi sono in bei pasticci. Certo, il vantaggio è tale, per cui nel Veneto è impensabile un ribaltone, ma però problemi parecchi ne avranno. Grazie.